A Radio Sportiva, Francesco Graziani ha condiviso le sue prospettive approfondite e dettagliate sul futuro dell'Inter come istituzione. In un'analisi approfondita, Graziani ha sottolineato l'importanza cruciale della stabilità aziendale per il successo a lungo termine del club. Ha sottolineato che, pur essendoci le legittime preoccupazioni circa la restituzione del prestito all'Octri, fondo di investimento, da parte del presidente del club Steven Zhang, egli resta fiducioso nella capacità dell'Inter di superare eventuali ostacoli finanziari che potrebbero presentarsi. Graziani ha sottolineato che una gestione responsabile delle finanze del club è essenziale per garantirne l'indipendenza e l'autonomia nel panorama calcistico europeo. Graziani ha inoltre parlato delle dinamiche interne dell'Inter, sottolineando l'importanza di mantenere un rapporto armonico tra squadra, allenatore e dirigenza. Ciao famiglia Nerazzurra, benvenuto nel nostro canale di notizie dell'Inter. Se sei nuovo qui, sappi che portiamo quotidianamente notizie dalla migliore squadra italiana, quindi ti invito ad iscriverti al canale e a lasciare il tuo mi piace sul video. Così potrai restiamo aggiornati sulle prossime novità Inter. Graziani ha sottolineato che la coesione all'interno del club è fondamentale per raggiungere il successo sportivo e istituzionale. Graziani ha elogiato la leadership di Zhang e la sua capacità di creare un clima positivo e collaborativo nel club. Ha sottolineato l'importanza di preservare questa cultura organizzativa positiva, poiché gioca un ruolo cruciale nelle prestazioni della squadra sul campo e nel processo decisionale strategico al di fuori di esso. Graziani, insomma, ha espresso un cauto ottimismo riguardo al futuro dell'Inter, riconoscendo le sfide finanziarie e organizzative che il club deve affrontare ma evidenziandone anche i punti di forza e le risorse. Ha concluso la sua analisi con un messaggio di fiducia ai tifosi dell'Inter, affermando che il club è ben posizionato per affrontare le sfide del futuro e continuare a costruire una storia di successi e gloria. Ora vorrai sapere la tua opinione sulle osservazioni di Francesco Graziani sul futuro dell'Inter. Cosa ne pensi delle analisi sulla stabilità societaria del club e sull'importanza dell'armonia interna? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto, perché la tua opinione è importantissima per l'Inter. E lascia il tuo mi piace al video per non perderti le prossime novità della squadra nerazzurra e Forza Inter!